... Incidente nel pomeriggio di venerdì 12 giugno intorno alle 15 sulla strada provinciale 460 all'altezza di Feletto. Una Fiat 600 con a bordo tre donne uscita di strada finendo nel fosso che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti la Croce Bianca del Canavese, la Croce Rossa di Castellamonte, i Vigili del Fuoco di Ivrea e i Carabinieri. A bordo c'erano tre donne di 61, 35 e 16 anni, residenti a Torino. Sul posto è atterrato anche l'elio di soccorso del 118. Dopo essere state estratte dalla vettura sono state affidate alle cure dei sanitari. Nonne e nipote sono state elio trasportate alle molinette. La 35enne è stata invece trasportata in ospedale in ambulanza, accertamente in corso sulla dinamica. La 36enne è stata invece trasportata in ospedale in ospedale in ospedale in ospedale in ospedale in ospedale in ospedale. Grazie a tutti. Grazie a tutti.